Erano una cinquantina, secondo la polizia, le ragazze tra i 20 e i 30 anni che lavoravano e si prostituivano senza costrizioni in nove centri massaggi in cinque regioni italiane, Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Puglia e Lombardia, per la coppia arrestata per favoreggiamento e induzione alla prostituzione dalla squadra mobile di Ancona nell'operazione Visciudda, dal nome del centro di massaggi tantrici sequestrato nel capoluogo marchigiano. La polizia ne ha identificate 15, ma sono in corso indagini per risalire anche alle altre. Le indagini, avviate a fine 2017, si sono avvalse anche di presidi tecnici e di riscontri dinamici. Un video girato da telecamere piazzate dalla polizia documenta l'attività sessuale avvenuta nel centro massaggi anconetano. Si vedono infatti un cliente nudo, il materasso a terra e la ragazza. Il massaggio, secondo gli investigatori, durava circa un'ora e il cliente pagava in anticipo 100 euro, di cui 40 andavano alla ragazza e 60 ai presunti gestore. Negli annunci per accaparrarsi la clientela, pubblicati anche su diversi siti internet, si garantiva massima serietà e personale altamente qualificato. A gestire l'attività di sfruttamento della prostituzione delle giovani ragazze italiane sarebbero stati, quindi secondo gli inquirenti, mariti e moglie originari della Puglia e finiti in manette nella giornata di ieri. Le ragazze venivano reclutate tramite annunci di lavoro, ha spiegato il vicequestore Carlo Pinto, dirigente della Mobile di Ancona, durante la conferenza stampa di questa mattina in questura, con assunzioni a tempo indeterminato, per lo più come segretarie, ma poi venivano addestrate a fare i massaggi. La selezione veniva fatta dall'arrestato. L'attività avrebbe fruttato ai coniugi circa 30.000 euro al mese nei nove centri massaggi gestiti, di cui alcuni con locali di proprietà.